Vi saluto, miei cari, sono Crayon, del Servizio Magnetico. Sentite forse che c'è un messaggio che cerca di arrivare attraverso di voi? Che domanda! Eppure, alcuni di voi lo sentono. La serie di questo mese è sulle cose insolite che stanno accadendo. Principalmente agli operatori di luce, alle anime antiche. Care anime antiche che mi state guardando adesso, non importa in che momento sia, vi dirò che il pianeta in questo momento è in un grande cambiamento, un cambiamento predetto da tantissimi, non solo da chi canalizza, ma anche dagli indigeni. Ma anche i santi e le sante dei secoli scorsi hanno tutti fatto riferimento ai potenziali che state vedendo adesso sul pianeta. Chi tra voi sta guardando questo programma, questo episodio, forse ha anche partecipato alla meditazione della nebbia verde, in cui vi portiamo a fare delle avventure, vi portiamo ad incontrare angeli, oppure in un tempio, e a sentire qualcosa che altrimenti non sentireste. Questo viene fatto di proposito. Questo programma porta un'energia che è diversa rispetto agli altri programmi che ho istruito il mio partner a darvi. Sentite, forse, che c'è un messaggio dentro di voi e che non avete ancora ricevuto, oppure che dovreste dare. La vostra intuizione sta incominciando a dirvi che c'è qualcosa per voi. Per alcuni di voi è così, vi sentite diversi. Mentre per altri di voi c'è un'altra domanda. Ma il mio scopo è cambiato? Perché sono qui? Sento che sta accadendo qualcosa di diverso. E questo è il messaggio che vi sta arrivando. E dunque risponderò alla domanda che è il titolo di questa canalizzazione. Molti di voi stanno ricevendo un messaggio di cui non sanno niente ancora, ma che sentite essere lì? La risposta è sì. Oh, sì. Tutti voi. Se potessi definire questo messaggio, direi che è questo. Voi siete diversi. State cambiando. Preparatevi. C'è sotto qualcosa, per così dire. Ma alcuni di voi sono andati anche oltre e si stanno ponendo una domanda più importante. Ma c'è qualcuno che sta cercando di parlare attraverso di me? C'è forse un messaggio che mi stanno dando e che io dovrei trasmettere? E se state ricevendo questo messaggio o questa intuizione o questo pensiero, allora vi dirò che probabilmente è così. E allora arriviamo a qualcosa di cui abbiamo già parlato. Miei cari, quello che state vedendo adesso è una canalizzazione, ma è un processo molto vecchio. Su questo pianeta ci sono stati canalizzatori per anni. Alcuni sono stati riconosciuti come coloro che hanno dato delle profezie. Altri sono stati riconosciuti come coloro che davano dei messaggi pericolosi perché andavano contro le regole religiose in vigore e questi spesso venivano fatti fuori. Ci sono stati canalizzatori nel corso di tutta la storia, miei cari. Anche alcuni sciamani lo sono e danno messaggi che provengono dall'altro lato del velo, ma questo sta per cambiare e ve lo abbiamo anche già detto che verrà un tempo che non è molto lontano in cui i canalizzatori non saranno più necessari perché la canalizzazione esiste perché la maggior parte delle persone, anche le anime antiche, non ha l'equipaggiamento per ricevere questo tipo di pensiero illuminato, intuitivo o continuativo. Capito? E se vi dicessi che la canalizzazione è un flusso di intuizione? È proprio così, ma deve essere appresa e esercitarsi e molti possono farcela con la pratica. E se invece diventasse automatico, e vi ho appena detto come, alcuni di voi stanno sentendo che sta arrivando una canalizzazione e non è come questa. Ma si tratta di voi che parlate con gli occhi aperti a chiunque voglia ascoltarvi, che sia la famiglia, che siano gli amici o i colleghi al lavoro o qualsiasi altro amico e quello che avete da dire non sono cose soprannaturali o inquietanti. Sono cose che si dicono in conversazioni normali, però sono cose sagge. Sono cose che provengono dalla vostra maestria interiore. Cose che sapete e che suggerite. e ci sono anche insegnamenti lì. Queste cose sono pronte ad arrivare da dentro di voi. Lo sentite? E qualcuno dirà, ma io lo sento da anni. Esatto, però non è accaduto nulla, vero? Forse, questa canalizzazione di oggi serve proprio a spiegarvi questo e a farvi dare il permesso affinché possa accadere adesso. Qualcuno dirà, ho sempre voluto scrivere un libro. Potete, se volete, perché non c'è mai stato un momento migliore per pubblicare un libro senza pubblicarlo, perché può essere trasmesso, può sempre far parte di qualcosa che viene venduto, potrebbe far parte di uno scenario che è completamente diverso dalla pubblicazione e sapete di cosa parlo. adesso avete la capacità di portare queste informazioni sui media, come mai prima. Forse è proprio questo il momento in cui le vostre informazioni possono essere trasmesse in qualunque modo riteniate appropriato. I vostri messaggi stanno aspettando di essere trasmessi da voi. E un'altra cosa che molti si chiedono è, sì, ho un messaggio che ha bisogno di essere trasmesso, ma perché io sarei diverso? In fondo questo messaggio sembra già essere presente là fuori. Perché dovrei farmi avanti e darlo in questo modo? Vi dirò un segreto. Se vi domandate così, perché io? Perché il mio messaggio dovrebbe essere diverso? Perché dovrei farmi avanti, ascoltare un messaggio che proviene dall'altro lato del velo e trasmetterlo? Perché io? Il segreto è questo. 35 anni fa, questa è esattamente la domanda che si è fatta il mio partner. Esattamente. Egli andò in un negozio metafisico, si guardò intorno e vide centinaia di libri di messaggi e disse questo mondo non ha bisogno di un altro messaggero. A quell'epoca io ero già arrivato da lui e gli raccontai dell'amore che aveva dentro di sé, l'amore dello Spirito e gli diedi l'idea di pubblicarlo, di trasmettere questi messaggi, di proseguire, di presentarsi davanti alle persone e vedere cosa sarebbe accaduto. La sua resistenza era grande e una parte di questo era proprio la domanda perché il mondo ha forse bisogno di un altro messaggero? Ce ne sono già tanti. Poi sapete cosa è accaduto perché lo state guardando adesso. E dunque vi dirò questo. Ogni singola anima su questo pianeta che si sente guidata a trasmettere messaggi sacri e spirituali ha un messaggio unico da dare che è il suo. È così che funziona. È questo che vi viene dato adesso. Non domandatevi se il mondo ne ha bisogno perché vi dirò che questo mondo ha bisogno di luce e i vostri messaggi ne fanno parte. Sentite forse che c'è qualcuno che cerca di trasmettervi qualcosa? La risposta è sì. Forse è solo per voi. Forse avete bisogno di un messaggio solo per voi. E per altri forse è il caso di trasmetterli. Stanno accadendo cose insolite in questa nuova energia in questa nuova luce di cui vi stiamo parlando. la maestria si sta manifestando anche nel vostro DNA. Tutta una serie di cambiamenti stanno accadendo nei vostri corpi, animi antiche, operatori di luce e uno di essi è che potrebbero esserci dei messaggi in arrivo. Forse udirete chiaramente un messaggio che vi dice sto cercando di contattarti e voi direte permetto a questo messaggio di essermi consegnato. Ti sento bussare alla porta chiunque tu sia caro messaggero dammelo adesso sono pronto so che sei lì Crayon ha detto che ci sei e il messaggero allora si presenterà a voi e dirà questo tu sei magnifico. Questo messaggio è per te perché oggi adesso il cambiamento è in corso permettilo nella tua vita non temerlo non aver paura di quello che sta arrivando perché è ciò che non ti aspetti cose belle la luce sta arrivando per te perché il messaggio proviene dal tuo sé superiore caro mio perché non gli permette di entrare forse per la prima volta nella tua vita come non hai mai fatto c'è chi dirà ma sono sempre stato pronto per il messaggio ho sempre detto sì ho sempre dato il permesso non proprio non come adesso perché non ti impegni a ricevere questo messaggio in tutta la sua gloria e grandezza e nel cambiamento che porta potresti dire dammelo sono pronto questa è la sfida per ogni anima antica che sta guardando questo programma adesso ecco la vostra sfida per voi oggi quando nessuno sta guardando sedetevi e dite queste parole caro spirito ti amo se sei lì dimmi cos'è che ho bisogno di sapere avete il coraggio di dirlo con intenzione e dopo preparatevi ad essere amati e così è